Ehi mostri di sciattolo, vuoi venire nel bagno con me? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight E uff, uff ragazzi, oggi abbiamo tra le mani un banner Wow, io mi aspettavo un banner acqua, come elemento acqua Ma non mi aspettavo di certo che ci fosse anche l'acqua in mezzo Wow, wow calmine, in asciugamano addirittura i miei occhi Io devo adesso fare la recensione di sto banner coprendomi gli occhi dalla tentazione No, cerchiamo di... Vediamo intanto le loro statistiche come al solito ragazzi E poi dopo le loro SS3, perché qui ragazzi, tra Sugo e Asuna Wow, fantastico Un attimo che mi devo riprendere Wow, favoloso, allora vediamo le statistiche Abbiamo Asuna con 3901 Però, picchia, guardate la posa Mamma mia, i miei occhi Ora mi si sta attivando lo Sharingan Forse di vedere queste cose, guarda 3901 Quindi, un po' basso questo attacco di Asuna Però, direi che la posa vale tutto l'attacco del mondo Quindi, wow Penso che il mostro si disintegra da solo quando la vede E poi abbiamo Oh mio Dio, Subwa Con la faccina da zundere, guardala Guardala, t'arrabbiata Spettacolo 4124 di attacco Quindi, un bel po' di attacco su qua Eh, direi che Gli hanno messo i cannoni Eh, sappiamo anche dove Ma, meglio non dire altro Belle ste pose Ma, niente Oggi Franci Oggi Franci non ce la fa a resistere Senza fare scout Mi sa, eh Mi sa che oggi Non ce la faccio più Allora, fra i loro poteri Hanno la classica leader skill Per il loro elemento Del 10% E hanno anche lo stun Quindi, è molto probabile Che questa ranking Sarà fondamentale Avere uno di questi due personaggi Perché Se no, non potete Stordire il boss Allora, abbiamo prima Asuna con Spread Bubble Vediamo un po' Le bolle Uh, guarda che fuori Nooo Oddio Lei che Lei che viene tipo Sollevata nella bolla Guarda che stigata Guarda che bello Uh E poi si stiracchia Per far scoppiare la bolla E scendere giù Favoloso Aspettate, quante hit ha Oltre che range Quindi, davvero Lontano Ho 13 hit Quindi, niente male Ed è tipo Parecchio range Cioè C'è da molto lontano Lo può fare E rimane dov'è Quindi si alza Solo in aria E poi Riatterra Ottimo, ottimo Asuna Ora vediamo Sugua Con La potenza Dei Dei suoi Bega cararmati Di Panichi Panichi Panico Panico Paura Oddio Oddio Che figo Sentite pure le urla Le strilla Che fa Quando qualcuno La va a vedere In bagno Ehi mostri Shattalo Vuoi venire nel bagno Con me Oh mio dio Che figata E come vedete Adesso Provo a stunnarlo Ora vi faccio vedere Eccolo Vedete che stunnato E dovete sapere Anche che Tra i poteri Che hanno Oltre a stunnare Il boss Quindi Rimane Stordito Alla vista Di tutto ciò Mamma mia Altro che Sangue Dal naso Questa è roba potente C'è anche il fatto Che quando il mostro È stordito Noro Praticamente Facendo prima Il combo Fanno sempre Garantito Vedete Sul boss Vedete Fanno tipo Tutti i garantiti I critici Eccoli qua Vedete Tutti i critici Garantiti Non Fanno mai niente Fuori dal critico Quindi ottimo Ottimo Davvero E se non sbaglio Vale anche per tutto Il team Quindi Sono davvero Fondamentali Per questa ranking Quindi non c'è Molto da fare Wow Però ragazzi Se volete Una mia opinione Personale Ci sono delle volte In salmd In cui La logica Prende Se ne vola via Dalla finestra Proprio Boom E in questo momento È arrivato Non c'è più logica Basta Devo fare scout Non c'è nulla Da fare Datemi a sugo Asuna Perché davvero I miei occhi Si sono accesi E fra poco Devo Devo staccare il video Se no Mi esplodono gli occhi Da tanta bellezza E che dire Quindi Facciamo questo scout Speriamo in bene Argo ti prego Sei stelle Al primo colpo Ma guarda Magari E poi vediamo Perché Si va male Spero di Non ci pensiamo Deve andare bene Dammi sei stelle Dammi sugo Asuna Dai Sì 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 Ma vieni Ma sì Le volevo E me le date Argo ti adoro Wow Ti faccio una statua Basta Io Argo Ma la do Eccola Chi è Chi è Tsugu BOOM 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 Favoloso Oddio Al primo scout Tutto combinato Niente Basta Franci Franci esplode Kaboom Oh mio dio Wow Wow Un altro Sei stelle Cosa What Tutti e due Oh Oddio No No Oddio Oddio No Basta Prendete i miei schiaffi Non è vero Non è vero Prendete i miei schiaffi Io non voglio più sapere nulla Basta Oh Oddio Franci impazzito No Io ce la faccio più Oh My god Wow Wow Argo Oddio Mi viene un infarto Adesso Fantastico Tutte e due Oh Magno Non ho mai avuto così tanto culo Ragazzi Mamma mia Quanti anni ci sono voluti Per farmi venire una roba del genere Argo Che non fosse un garantito Soprattutto Wow Wow Oddio Aspettatevi tipo le peggio immagini Francis che esplode Wow Oddio Argo grazie 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 Ti faccio una statua Mingi l'occhio Questo è il più grande risultato che abbiamo mai visto Wow Oddio Wow Uff Calmatemi Ce le ho tutte e due Tutte e due Oh Non mi frega niente il record crystal Oddio Oh Cioè guardatele Wow Guarda mamma mia E anche Asura Ah Franci ormai È un uomo felice Quindi se vedete che esplode il canale Muoiono tutti Però Franci è felice Anche se c'è la quarta guerra mondiale E non c'è nemmeno la terza Basta Uff E direi che per chiudere il video Andiamo a fare anche uno scout delle armi Perché Argo davvero ti adoro Eh è vero che non è neanche un pugnale Eh no Un pugnale Forse ce l'ha un pugnale acqua Boh Non mi ricordo più Allora facciamo un po' di scout qui Su Dai Argo Dammi la benedizione tua Anche sulle armi Già che ci siamo 3 2 1 Via Oh Cosa mi ha dato Un bel niente Vabbè Era a chiedere troppo Ok ok Va bene Posso comunque andarmene felice E boh che dire ragazzi Ce le ho tutte e due Quindi Secondo me c'è la gente Con i forconi Tipo Maledetto Franci Dark Knight Ti ammazziamo Ce le hai rubate tutte e due Wow Uff E che dire ragazzi Don Franci Che Oddio Dattemi un defibrillatore È tutto E ci vediamo al prossimo video Memory The Frog E Domani invece Con la live di Spyro Quindi Domani potete mandarmi Tutte le madonne E i cristi Nei commenti Della live Per distruggermi Tipo Maledetto Hai avuto un culo Incredibile E da Dark Knight è tutto Un bacione a tutti Ciao a tutti